Squilla il telefono, chi sarà mai? Adesso lo scopriremo. Mare sei mio fratello, mare, come stai? Io sto bene, sto bene, ma che fratello? Io ho una sorella. Sono Ennio, mare, sono Ennio. Ennio, lo so che sei tu, ma io non ho fratello. Mare, fratello, in senso figurato, mare, per il bene che ti voglio, mare, ti voglio bene più di un fratello. Ma non è così, io sto bene, io sto bene, tutto a posto, sono qui. Si vede che sei un tipo che tiene all'amicizia, mare, per te l'amicizia è sacra, mare, si vede, si vede, tanto è vero che hai passato, mare, la canzone del figlio dell'amico tuo, mare, Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio, amico mio, dal 1999, quindi pensa un po'. Hai capito, ma ecco perché passi le canzoni di suo figlio, mare, non si può ascoltare, ma la canzone, ma tu perché è amico tuo, perché tu credi nell'amicizia, mare, sei un fratello, mare. Io sono uno che crede nell'amicizia, ma con te non sono amico, non lo so. Ma, mare, tuo fratello è mio, mare, quante ne abbiamo passate insieme, mare, sei numero uno, mare, ti ricordi? Mare, a Malta, a Malta, quelle nottate, mare, sesso, droga, rock e rock, droga, genera, mare, sesso, fish, rock e rock, rock, genera, mare, sesso, fish. e basta è il numero uno forse non tutti lo sanno ma salvo la rosa ragazzi alla roulette è il numero uno io non so come faccia ma io non gioco neanche ti ricordi quando mi hai fatto vincere tutti quei soldi a Malta che abbiamo portato una limousine di donne in albergo ma io non sono mai salito di quello che vuoi comunque Mario non capisco come mai non ti facciano presentare Sanremo te lo fanno fare a quello scarsone di Amadeus tu che sei mare bello tu sei bello te lo dico io non perché mare perché pare che io sono di parte perché ti voglio bene però io ho fatto un piccolo sondaggio in giro devo dire mare che tu risulti molto bello se è vero ti ringrazio Amadeus non può competere con te sotto questo punto di vista seconda cosa ma la professionalità vogliamo mettere ma andiamoci chiaro diciamoci la verità diciamoci la verità se tu non ci fosse stato mare Pippo Paudo perché lui è invidioso ti ha messo i bastoni tra le ruote diciamo la verità ma non è vero ma Pippo è mio amico voleva essere l'unico catanese famoso tu sei mio fratello lo sai io dico le cose che tu non puoi dire perché io ti voglio bene senti mare io sono a Malta in questo momento ah sei proprio a Malta sì sì mare in questo momento qua c'ho degli amici che mi stanno puntando una pistola alla tempia ho bisogno di un centinaio di migliaia di euro un politico ti mando Liban non c'è bisogno non mi mandare niente ma tu sei mio fratello ma quando mai ma io non so tu chi sia io ti conosco a stento che tanto telefono ma sono Ennio mare tuo fratello ma quale fratello io ho una sorella ma ne abbiamo fatte tante a Malta ti ricordi mare io non ci sono mai stato a Malta con te mai ma come no ma dici queste cose sei in diretta mare mi sputtano in tele ma non ti sputtano ma questi mi sparano mare vogliono i soldi ma che faccio peggio per te che combini guai che vuoi che ti dica ma sei mio fratello mi devi aiutare ma quando mai ma fanno bene che non ti fanno presentare Sanremo ma te lo meriti mare se lo fanno per questo motivo sono contento Amadeus è un signore ma se chiamano Amadeus quello mi aiuta subito e chiama Amadeus ma te li devono fare presentare il festival di San Giorgio ma lo conosci? come no la signora Nensi ma lo conosci ma per tutta non dire a nessuno che mi conosce no per carità tutti che mi conosci ma sei mio fratello ma quale fratello non portare parole avanti capito tu sei uno che chiama solo se ha bisogno ma dai una volta eravamo a Malta l'abbiamo fatta a Bianca per colpa tua non lo trascavamo con nessuno per colpa tua Amadeus ciao Ennio